Sì, se ti fanno le domande Tu meno parli, meno capito Dici il meglio, eh? Ma a me la ditta individuale Com'è? SNC o SRL? Com'è? È una ditta individuale, eh? E basta? È un accordo da noi Che io ti faccio i lavori No, quello era il fatto Che devo mettere la firma sul contratto E ci voleva il timbro Però io lo metto a penna Hai capito? E non sapevo Ti ha detto qualcosa dell'olio? Lui mi ha detto Te lo faccio preparare Considera che non so se te l'ha detto Cioè sono lattini da dieci litri E me ne servono dieci Sì, sì, non c'è problema Mi ha detto solamente Perché quando sarà? Devi fare Allora, a me serve il tacchino Un sei chilo e mezzo Vanno bene? Poi mi serve il salmone Quello affumicato Mi prende sempre una grande Noi ne siamo venti Mozzarelle, strasciatella, capito? La scamorza affumicata E poi mi serve un primo sale Un po' di parmigiano Mi serve un po' di tonno Una cassetta di clementino Un po' di limoni I melograni Quelli tuoi E un po' di olive Queste sono tutte aziende Che li smenano Un becco una lira di dieci anni Cioè, veramente Mi mancato i redditi Per dieci anni Io non so quando Il collegio televisore è qua Scusa, io non ho capito Uno che non ti paga dieci anni Cioè, io ho comprato un'azienda Non ti paga dieci anni E non ho incasato una lira di dieci anni Ma infatti Ma sai che danni c'ha Qua dentro il smeto Nessuno ci ha messo a naso Esatto Tutti tranquilli Hanno dormito tutti i sogni 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 tranquilli